Sono giornate caldissime per il Pavia Calcio sul fronte calciomercato. Il direttore sportivo in Borgia ha piazzato tre colpi importanti in rapida successione. Decisamente eclatante e voluto fin dai primi giorni del mercato di gennaio dai dirigenti pavesi, l'ingaggio fino al 2018 di Ferdinando Sforzini, 31enne attaccante proveniente a titolo definitivo dall'Entella, che vanta un passato in Serie A con il Bari e presenza in Champions League con i rumeni del Cluj. Il taglia-gole, così soprannominato per l'esultanza ispirata alla star del Vrest in Chris Benoit, è una punta in grado di fare reparto da solo, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel colpo di testa. Predilige difendere palla con il fisico per favorire gli inserimenti dei compagni. Insomma, tutte caratteristiche che possono fare comodo nel gioco di Brini, che spesso nelle ultime settimane è risultato un po' sfittico sotto porta. L'elemento utile in grado di giocare sia da esterno sinistro difensivo che a centrocampo è invece Valerio Foglio, classe 1985, proveniente sempre a titolo definitivo dal Mantova, che torna così a vestire la maglia azzurra dopo alcune stagioni. È il classico jolly tuttofare che interessava al Pavia già nella scorsa stagione. Decisamente di profilo internazionale, il terzo imminente acquisto dei pavesi. Un colpo ad effetto per la Lega Pro, dopo che sembrava destinato all'Ascoli. Si tratta del 24enne centrocampista, pilastro della nazionale maltese, Rowan Muscat, proveniente dal Birkikara, squadra che milita nella Serie A maltese con quattro campionati vinti nella propria storia. Muscat ha destato un'ottima impressione nelle gare giocate contro l'Italia nel recente girone di qualificazione agli europei 2016. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Sumato l'ingaggio di pazienza, sul fronte uscite si registrano i passaggi di Andrea Cristini e Mattia Marchi al Mantova, nell'ambito dell'operazione Foglio. Il difensore con la formula del prestito e diritto di riscatto, mentre la punta a titolo definitivo. Martin passa invece in prestito al Pordenone. Nel frattempo prosegue la prevendita in vista della gara interna contro la Cremonese, in programma domenica prossima alle 17.30. Mai come in questa circostanza, la squadra ha bisogno di un supporto e il calore dei propri tifosi. I tagliandi saranno acquistabili attraverso i consueti canali di vendita fino alle 20 di sabato e al botteghino dello stadio il giorno della gara.